Il Giardino dei Giusti di Padova è un luogo simbolo per chi non si piega quando si tratta di diritti civili e umanitari. Qui Medici Senza Frontiero, organizzazione umanitaria, ha voluto incontrare la stampa e incontrarsi per riflettere sui scenari internazionali di guerra, immigrazione, terrorismo e violazioni civili. È vero che oggi abbiamo due grandi problemi. Da un lato quello di vedere riconosciuto il nostro ruolo di organizzazione umanitaria indipendente, imparziale, in contesti dove magari abbiamo a che fare con attori non governativi che questo ruolo non riconoscono. E questo da un lato. Dall'altro lato quello di obiettivamente lavorare su alcuni temi, quello della migrazione è l'esempio più facile, che sono temi difficili, che sono temi che hanno una sensibilità politica molto alta, anche se noi rispetto appunto al tema della migrazione facciamo una cosa che abbiamo fatto da sempre, che è la nostra ragione d'essere, ovvero salviamo vite. È quello che facciamo nel Mediterraneo così come è quello che facciamo in Africa quando ad esempio lavoriamo su un progetto di malnutrizione. Un pensiero a del grande il giornalista trattenuto in Turchia perché filmava le condizioni dei profughi seriani. In Turchia siete ben accetti? Beh, in Turchia non è facile lavorare per i giornalisti, non è facile lavorare per le organizzazioni non governative e come accennavo prima, essendo noi un'organizzazione che nasce da un'iniziativa di medici e di giornalisti, siamo sempre stati al fianco, abbiamo sempre avuto a fianco a noi giornalisti nel corso di questi decenni. Ed è per questa ragione che siamo particolarmente attenti e particolarmente sensibili alla vicenda di Gabriele del Grande e per questo siamo particolarmente vicini alla famiglia, ai suoi cari e ci auguriamo veramente che sia una vicenda che possa essere risolta prestissimo. Medici e giornalisti, soccorso e testimonianza. Portiamo la nostra testimonianza, cerchiamo di spingere i governi, parliamo all'ONU e chiediamo le cose che vediamo sono necessarie e diciamo quello che succede. Siete ascoltati? Sì, beh direi di sì, nel senso che per i vaccini, alcuni farmaci siamo ascoltati. Avete paura? Qualche volta sì, ma molte volte no. Io personalmente mi sento molto sicura quando parto in missione perché la sicurezza è uno dei capisaldi. Grazie. Grazie.